Sono 24 al giorno 38 Ciao tesoro Ecco, ho finito di stare in pace Che è successo? Sono massacrato al lavoro Capirai, massacrato Che è successo? Mamma mia Ancora, ero appena arrivata Pronta Per tranquillizzarmi E rilassarmi Non è possibile Mi hanno massacrato Mamma che lavoro Faccio l'infermiere, lo fai No, aspetta, non fai l'infermiere Che sta faccio? Fai l'ossia Ma tu vuoi l'assistituto? E pure ti chiede a prendere gli altri Poveri e malati Come li piango Mamma mia E non ti cacci sto giubino? Eh, vuoi cacciare, sì Sono appena arrivato E invece no Io sono arrivato Io ero appena arrivato Ti stavo aspettando Perché ho detto Se ci dobbiamo mangiare qualcosa Ci lo mangiamo insieme No, no, no Che mangiare, mangiare Ho solo voglia di stare a letto io A letto? Perché cosa? Perché cosa a letto? Amo Voglio vedere te tutta la stasera alle otto Finale alle otto di sera Angelo Pronto? Sì, buonasera Sempre in casa Canino Sì, sono sempre la signora Canino Le chi è? O per meglio dire Con chi ho il piacere O il dispiacere di parlare Non ho capito Chi è lei? Laura Io non conosco nessuna Laura Eh Ah Non conosce me Ma conosce Edoardo E come fai a conoscere Edoardo? Cioè, fammi capire Come fai tu a conoscere Edoardo? No, io sono calma E' la mia voce che comincia Cosa? Ah Pure Cosa stai dicendo? Che ti conosci pure molto bene Ho capito Aspetta Ti ammazzo Ma ti ammazzo Aspetta Lei frequenta Da circa due mesi Il mio compagno Un mese È solo un mese E in più Un anello Sì, ma non è come il tuo Come quello collegato Ah no, non è come il tuo Come quello collegato a te No, questo è più bello Perché l'ho preso un mese fa E quindi è una cosa Ultramoderna Giustamente è una cosa Dell'ultimo mondo Non ne avevo un mese fa E il mio invece Si ricorda l'epoca Di mio nonno Il mio nonno Il più vecchio Ah Accompagnato Da un bellissimo Mazzo di rose rose Rosso e passione Ha anche scelto le rose rose E perché Queste rose rose Bellissimo Non dà mai una cosa Mi hai fatta Mi hai disgraziato Maledetto Vigliacco No, no, no Mi dica Mi dica No, sono calma Mai quanto adesso C'ho una fibrillazione Una coloria a palma Ma farò uno scherzo Per qualcuno che Non lo so Io te le rompo le ossa Te le spezzo le ossa Ma perché? Lo sai quanto ossa abbiamo? Dai, una domanda facile Facile Anche adesso te la faccio Mi hai cavo il telefono Quante ossa ci sono In uno scherzo Dimmi Eh, non lo so Te lo dico io 207 Le rompo tutte Una luna Tutte Tutte Non è quello che pensi Aspetta Stai muto tu Non è quello che pensi Ho pensato Ho sentito già Quello che hai detto Prima Ho pensato Eh, io sono la signora Dani Ma non mi chiamo Gallo Hai visto? Lo sapevo io Però ti ho beccato lo stesso Un disgraziato in un altro collaio Ho capito, ho capito Io la ringrazio Cortesamente per questa sua chiamata Quando vuoi mi puoi sempre chiamare Grazie Saremo buonissime e brave amiche Sì, sì, sì La ringrazio Buonasera, buonasera Ecco qua Cioè Come si suol dire? Dalla bugia ho saputo la verità Ho capito Con la verità E là Aspetta E tu dicevi Non sono due e uno Non era un regalo grande Per il picco Non era un bucchero Una rosa Chi è stato Mi riferiva ad un provvedimento Non pensavo che Edoa Mamma mia Come ti rompo le ossa Ma stasera Che serata Cerca di stare calma Ti faccio le ossa Pezzi pezzi Mamma mia Questa disgraziata Lei è disgraziata Tu che sei? Dimmi tu che cosa sei Ma sei tranquillo Eri tranquillo Tu lo sai Non è che tu lo sai Come se l'ho fatto io Sì La prima Laura Che chiama Subito Che era Laura? Se non è la Laura La come si chiamava? Ma hai pensato Che tu parli di Pamela Ah Scusate Scusate Allora Allora E finalmente ragazzi Siamo arrivati nel finale E diciamo Ai nostri amici Ai nostri fans Almeno mi auguro Che non sia vero Quello che abbiamo appena recitato Se c'è una Pamela Ti tiro un punto Un cervello Vogliamo ringraziare I nostri fans E dire che Grazie a vostri contributi Grazie ai vostri mi piace Grazie ai vostri Grazie ai vostri Ai amici miei Perché sono Sono Sopri miei fans No Chi ti conosce te Appunto Però piano piano Sì molto piano Comunque ragazzi Siamo arrivati a mille like Su facebook E a mille cento qualcosa Su youtube Stiamo andando alla grande Veramente Noi ci Ma Noi io Non ho più parole Dani Io Non ho più parole Dani Non ne hai mai avute Tu parole Le combinazioni Le tue parole Scappano sempre lì Non lo so perché Si nascondono Dentro il tuo labiale Sono emozionato Mille like Grazie mille Conosce la canzone? Grazie mille Ma Chi Dici Io Non la conosco Sta canzone No Ma Che Grazie Mille E tu Perché La spezzi La parola Perché Non so Cantare Ecco Allora Diciamo ai nostri amici Fans Che ci Diciamo No Diciamo Che Questo piccolo Sketch È servito A far capire Che alcune volte Anche se andiamo di fretta Non bisogna rispondere Si Perché ci possono essere Gli equivoci Benissimo Ecco Come questi No E i tuoi parenti Prendono palata Ah lui L'ho massacrato Gli ho rotto Tu duecenti e sei ossa Vero Sì Sì Come Sì Sì Allora ce n'è qualcun altro No Ma è rotto Ce n'è un interno O lo finisco di rompere Bene Un saluto Un abbraccio Da Eduardo E dalla Dani Ciao 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 Ciao